Per risolvere così il problema riguardo al 0xc00021 per riguardo al recovery, a destra c'è scritto le indicazioni per entrare direttamente in questo pannello, quindi per entrare in questa interfaccia, vai su troubleshot che sarebbe risoluzione problemi, opzioni avanzate e andiamo sul cmd, prompt dei gomanti. Una volta fatto vai a scrivere direttamente bootrec spazio slash fix mbr, invio, bootsect spazio slash nt60 cis spazio slash mbr, invio, bootrec spazio slash fix boot, invio, bootrec spazio slash rebuild pcd, invio. Una volta fatto qua sopra vai a scrivere chkdsk spazio slash f spazio slash r spazio c, dei puntini, invio, per fare diciamo un ripristino al disco e devi aspettare un paio di minuti. Una volta fatto sfc spazio slash scanno, basta. Poi una volta fatto il tutto devi solamente scrivere exit per uscire così dal cmd e fare continua e risolverai così il tuo problema riguardo al recovery su questo errore. Ciao e grazie.